Nervi tesi, anzi tesissimi, tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota. L'ex GFina, appena uscita dalla casa del GF Deep, avrebbe telefonato al signor Mastrota, dicendogliene di tutti i colori dell'arcobaleno. Uno scambio di vedute di fuoco, quello intercorso tra i due volti più amati delle televendite. Ma la domanda è lecita, per quale motivo la Rossetti si è tanto arrabbiata con il collega? Ora vi racconto tutti i dettagli, ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono nato e questa è una nuova pillola di gossip. Patrizia Rossetti, la donna che non si arrabbia mai, non appena ha lasciato la casa del GF Deep, ha scoperto di avere perso alcuni contratti di lavoro. E capita, capita. La regina delle televendite è andata su tutte le furie e se le è presa niente po' di meno che con il collega Giorgio Mastrota, il re delle televendite. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Rossetti avrebbe telefonato al signor Mastrota dicendogliene di tutti i colori. Insomma, tra i due ci sarebbe stato uno scambio di vedute, tutt'altro che tenero. La notizia è stata riportata da Mrs. Dejanira Marzano, ma al momento non ha trovato conferma da parte dei diretti interessati. Quindi voci di corridoio messe in giro appunto dall'amica Dejanira. Secondo quando si legge sulla pagina Instagram dell'influencer, la Rossetti aveva dei contratti in stand-by per alcune televendite e Mastrota le avrebbe soffiato il posto. Accidenti! Questo è quello che una fonte avrebbe riferito alla nota influencer campana, che ha svelato poi altri dettagli su questa presunta lite. Patrizia, che io chiamo amichevolmente Patti, scoperto di avere perso questi lavori, avrebbe incolpato proprio il collega, Giorgino Mastrotino. Mastrota evidentemente pensava che Patrizia sarebbe rimasta più a lungo all'interno del GFVP, avrebbe quindi preso il suo posto in queste televendite. Ovviamente la Rossetti cosa ha fatto? Quello che gli viene meglio, è andata su tutte le furie una volta scoperto tutto questo, prendendosela proprio con Mastrota. Ecco perché lo ha chiamato in una telefonata al Fulmicotone, diciamo che è inviperita a dir poco. Non si sa con certezza se questi contratti la Rossetti li abbia persi per colpa di Mastrota, sì o per colpa di Mastrota, no. Sta di fatto che l'aver deciso di partecipare al GFVP è costato muy caro alla signorina Patti, eh sì. Forse non tutti sanno che pure Giorgio Mastrota, tra le altre cose, è stato corteggiato a lungo dal fonsino signorino, eh sì. Il re delle televendite però ha sempre declinato l'invito e non ha ceduto mai, e proprio mai, alle lusinghe di signorini. Bravo Giorgio. Non è stato solo il GFVP a cercarlo in questi ultimi anni, molte offerte gli sono arrivate anche da altri reality, ma Mastrota ha risposto di no a tutti. Difficilmente quindi lo vedremo in qualche reality anche in futuro. Lui stesso ha dichiarato in più di un'occasione che non gli va di andare in tv a parlare a vanvera. Insomma, il re delle televendite pare essere restio a finire nel calderone del telegossip. Che dire, bravo, bravo. Preferisce continuare a dedicarsi a ciò che sa fare bene, ovvero spargami... Eh, no, vabbè. E che gli ha permesso in tutti questi anni di crearsi una carriera di successo, perché, non so se lo sapete, ma guadagna un pozzo di soldi Mastrota a vendere materassi, pentole e affinie, ormai è considerato il re delle televendite e, per quanto gli riguarda, i reality possono aspettare all'infinito. Ciao, ciao. La sua risposta sarà sempre no, grazie. Così non è stato invece per la collega Patrizia Rossetti, che invece ha ceduto alle lusinghe dei signorini, e per lusinghe intendo tanti sghei. Forse dovrà anche mettere in conto il fatto che i contratti non potessero andare in stand-by così a lungo. E, alla fine, le aziende devono vendere le pentole, devono vendere i materassi, devono vendere le loro cose. Quindi, sarà stato veramente Mastrota a farle perdere questi lavori? Oppure è il ciclo naturale delle cose? Bene, ragazzi, queste sono le ultime news, direttamente non da dentro, ma da fuori, dalla casa del GFVIP, e ovviamente mi fa un po' sorridere il fatto che Patrizia Rossetti, che noi abbiamo visto praticamente al GFVIP sempre arrabbiata, perché, mi spiace dillo, ma si è arrabbiata un po' con tutti, ha litigato un po' con tutti, quando è uscita ha continuato a litigare, in questo caso potrebbe anche essere che abbia ragione, potrebbe anche essere che abbia torto, comunque, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere, e per il resto ci aggiorniamo alla prossima news, mi raccomando, registrate, cliccate, condividete, scampanellate, e prima di chiudere sentiamo l'opinione del mio gatto. Ciao, gatto, cosa ne pensi di questa diatriba tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota? Ah, hai già tutto il set di materassi, hai già tutto il set di pentole, ah, quindi te sei uno che compra le televendite? Ah, per forza, usi la mia carta di credito? Ah, beh, allora così è facile, ok, da ora in poi ti vieto assolutamente di comprare roba nelle televendite, ah, te ne sbatti, va bene, ok, tanto alla fine vincite, va bene, va bene, dai, finisco il video, ciao, mia, 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 va bene, niente, se vuoi sentire la sua opinione, invece mi trovo altri addebiti sulla carta di credito, vabbè, vabbè, raga, fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, badazzi! Ciao! Sous-titrage ST' 501